Magica Task Force 108 Il comandante conferma che possiamo procedere con l'operazione OCA a salva È confermato, il primo ministro è ancora sul suo yacht, rimorchiato da una fregata nemica Warwolf, procedete a bassa quota come previsto, potete attaccare la fregata Le squadre Seal Hammer 1 e Spetsnaz Zoyo 1 sono pronti all'attacco Ricevuto, ora contatto Molot Squadriglia Molot, qui Warwolf Ricevuto Warwolf, è un piacere volare ancora con voi Il radar a lungo raggio mostra parecchi nemici più avanti Ricevuto Warwolf, pensate alle navi, noi terremo lontani caccia Confermato Molot Warwolf 1, vi state avvicinando all'obiettivo La squadra Shadow inizia la copertura ECM Eccolo yacht Quadriglia Warwolf, ora affondiamo la fregata Ricevuto L'ho agganciato Cannone contraereo distrutto Versaglio affondato Liquidata La fregata è fuori gioco Warwolf, attenzione Il bersaglio prioritario è la porta aerei ribelle a nord-est della fregata State bassi e occhio alla contraerea Metteremo anche le comunicazioni della squadra Special inizia la gioia 1 Ora in transito verso lo yacht Roger Donner, un espliposo esecutato Versaglio distrutto Il bersaglio rotto via aerei Warwolf, la squadriglia russa Varona pensa alle navi di scorta Voi potete continuare con la porta aerei Warwolf, qui Varona Voi prendiamo i decisionini, voi appuntate la paletta Capito Warwolf 1, missile Vieni la porta Roia 1 alle unità aeree Ci avviciniamo al bersaglio e attendiamo Linea di fuoco libera Warwolf, si è resistente in corso Lasciate fare a te, parola Mi hanno aggassato, springo Li suvato Warwolf Warwolf 1, via Warwolf 1, via Veniamo in aiuto Già, se li lasciate passare siamo spacciati Versaglio preso Yukoi ha battuto, Yukoi ha battuto Il botta è in pialle Il botta nemico è un colobrono, non potrà decollare nulla Dovrebbe bastare Versaglio preso Versaglio preso, bersaglio distrutto Magic, avvisa le unità aeree che la porta aeree è fuori gioco È in fiamme e in barca acqua Recevuto Warwolf, gli assaltatori si avvicinano allo yacht Soprimete il fuoco dalle navi vicine Yukoi ha uno, siamo sotto fuoco intenso, fate presto Capito Fuoco Sanno abbattendo i nostri missile collegati Ok, ok Aeree in attacco I ribelli usano cannoni Gatling per distruggere i vostri missile Ricevuto Zoya 1, unità aeree Vediamo fuoco intenso Possiamo procedere? Negativo Zoya 1, aspettate Non vedo Il canone si è fermato quando World War 3 ha usato l'escarada Sparando con i trans, renderemo dei transversari Capo World War 3 a tutti gli aerei russi e americani Concentrate il fuoco sull'incrociatore classe Cara Seguite con tutte le armi di bordo Abbiamo calcolato la rossa ottimale per l'attacco di saturazione Quadriglia Verona, seguite la squadriglia World War 2 Dobbiamo riuscire al primo tentativo Ci siamo Attacco di saturazione Unità alleate, seguite la squadriglia World War 2 Unità aeree, fuoco Fate fuoco Guarda, scontrofitto Armi in attività Bersaglio distrutto Cannoni nemici fuori uso Le gasling nemiche sono fuori uso Difesa antimissile nemiche affattute Proseguire l'attacco Affermativo Ci siamo Bersaglio agganciato Bersaglio affrontato Missile lanciato Tameruno a Warwolf Quanto vi manca? Gli elicotteri sono quasi a dentro Forse si tocca ritirarli Non manca molto L'ho preso Incrociatore giù Gran bella esplosione Così si fa Sto abbondando Buona turno a Magic Warwolf ha fondato l'incrociatore Assaltatori Potete procedere verso il bersaglio Soia 1 procede Winghammer 1 Bel lavoro Procediamo SIL Ci sono ancora navi nemiche Agite in fretta Soia 1 I SIL preparano un lancio halo Warwolf Queen Magic Incende Il comandante Chiede di attaccare E di sfuggere Tutte le navi nemiche in zona Teneteli lontani dallo iodo Se succede qualcosa Agli assaltatori Il salvataggio fallirà Roger Andrea Barona Pensate alle navi Presso lo iodo L'incrociatore viene dopo Via, via, via Bersaglio preso Fregata affondata Aerei di supporto Attenzione Le squadre SIL e Spetslap sono a bordo delle navi Hammer 1 Prendete forse Ratturiamo le campine per trovare un brinde che ci so E Ivan Ha il canale aperto Si può sentire tutto il mondo Dacci un taglio Un altro nella pancia di Nettuno Spendiamoli tutti Tutto alla parte aerea a scasciare in faccia la nostra nave Parola d'Auas e comando di terra Molte navi rimedi affondate I supertili si battono con le rosse Bersaglio eliminato Bersaglio eliminato Plotta nemica sistemata Ripeto Plotta nemica sistemata Doia 1 a Megic Abbiamo il primo ministro È vivo Ricevuto Doia 1 Bello punto A tutti gli aerei Colpite le navi rimaste Sì ricevuto Ricevuto Hammer 1 a Megic gli nemici si arrendano Megic Riferite al comando di terra Che ribelli sono in fuga Gli Zogi sfuggono dalla nave che affonda Warwall Porto il mio primo Attivato Roger di giro ed è considerato attile. Attacca un po' inizia. Ricevuto Warwolf, andiamo. Non devono lasciare la nave. Vissile lanciato. Dall'azione. No staccio. Warwolf, il Gatling dell'incrociatore sta tirando i vostri vissili. Dovete saturarlo. Fuoco a razzica. Ricevuto Magica. Unità aeree della Task Force 108. Preparatevi all'attacco di saturazione seguendo Warwolf. Il prossimo passaggio è la nostra ultima occasione. Bisogna distruggere i cannoni Gatling. Warwolf 1, è un altro attacco di saturazione, sì? Come l'altra volta? Ricevuto Verona. Procediamo. Verona conferma Warwolf. Fate strada. L'Area. L'Area. La Bragg Betatu. Inizio l'attacco. A tutti gli aerei, attaccare! Fuoco fuori la balena. A tutte le unità, eliminati i cannoni. Massima presenza. I cannoni sono bella. Ok. Spendano solo tutti i livelli con te. 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 Il capitale russo chiede di ritirarvi per dare al capitano nemico l'occasione di arrendersi. Questa è una trasmissione per le navi superstiti della nuova federazione russa. Qualsiasi resistenza conforterà la morte. Ammainate la bandiera e cessate il fuoco, non sarete distrutti. Questa è una trasmissione per le navi superstiti della nuova federazione russa. Qualsiasi resistenza conforterà la morte. Ammainate la bandiera e cessate il fuoco, non sarete distrutti. Nessuna risposta, medico. Abbiamo ascoltato su ogni canale. Ricevuto, Warwolf. Il comandante russo vi autorizza ad attaccare. Ricevuto. A tutti i caccia, seguitemi. Facciamo la finita, boss. Contra aerea. No, colpito. No, stop. Radar nemico fuori uso. Masticato. Il prossimo giro andrà a me. Missile lanciato. Versaglio distrutto. Batterie nemiche fuori uso. Versaglio preso. Danio a posto. Colonello, possiamo colpire ancora. Aggraziato. Attiva. Ricevuto. Statta, scatta. Preso. Non male, non male. Fuoco, fuoco, fuoco. Ancora un po'. Versaglio preso. Centropiede. Versaglio distrutto. Bello. Oh, sì. Sta affondando. Magic, attenzione. L'incrociatore sta affondando. Hai già avuto, Warwolf. Bel lavoro. Warwolf, buono. Grazie di vostro aiuto. Abbiamo salvato il primo ministro. Recevuto, Malos.